Gioia e Gaudio nel regno ragazzi, gli Adelphi sono scontati del 25% dal 14 febbraio, ovvero da ieri, al 17 marzo. Quindi ho ben pensato di realizzare questo video per voi. Poi andare a prendere qualcosa io. Ah, piccolo avviso, della maggior parte di questi libri ho parlato sul canale, quindi se vi interessa un'opinione più approfondita di quella che per ragioni di tempo darò adesso, vi basta cercare il titolo del libro che vi interessa nella barra di ricerca che trovate in alto alla schermata del mio canale. Il primo libro che vi consiglio è La variante di Luneburg di Paolo Maresig, autore italiano dalla penna sorprendente nel senso letterale del termine, perché alla fine di questo libro vi treverete in un punto inaspettato rispetto all'inizio. È una grande piccola metafora del gioco degli scacchi, gioco a cui io sono abbastanza affezionata e appassionata, quindi sono riuscita ad apprezzarlo maggiormente per questo motivo. Però è un libro che davvero può piacere a tutti, proprio perché gioca a sorprendere il lettore con un contenuto altamente raffinato. Il secondo libro che vi consiglio è un libro di Emanuel Carrer, l'unico che io ho letto di suo per ora, ovvero Limonov. Limonov o Limonov, perdonate la pronuncia, è un libro ibrido tra la forma romanzo e la forma saggio, in particolare la forma non fiction della biografia. Il personaggio di Limonov, nel quale Limonov stesso non si rivede, è altamente filtrato dalla penna di Emanuel Carrer, che lo dipinge come un personaggio dalla vita avventurosa, sul stampo dei suoi modelli di scrittura come Alexandre Umà. Proprio per questo motivo vi consiglio di non andare a cercare informazioni sul personaggio di Limonov prima di aver letto il libro di Emanuel Carrer, perché altrimenti la lettura si trasformerebbe, almeno di questo libro, in una caccia a cosa è reale e cosa no, e a quanti dati reali sono contenuti. Non è questo l'intento del libro, anche se non è, ripeto, soltanto un romanzo, e rovinerebbe di parecchio la lettura. William Faulkner, luce d'agosto, e per la luce non si vede bene la copertina. Mannaggia. Luce d'agosto è un vortice d'emozioni, non saprei in quale altro modo descriverlo. Questo libro è un viaggio alla scoperta dei reali sentimenti di inequality, di ingiustizia, che purtroppo caratterizzano gli Stati Uniti del Sud, del profondo Sud. Consigliatissimo per il forte impatto emotivo e per avere una visione un po' originale su questo sottogenere della letteratura americana. Poi Lolita, di Vladimir Nabokov, per scoprire un romanzo sorprendente, innovativo e altamente provocatorio. Ma con quella provocazione intelligente che permette al lettore di riflettere. Lolita è una lettura emozionante, un romanzo dolcissimo, dalla prosa elegante, raffinata, composta, che scava all'interno della psiche dei personaggi con grande sincerità, accostando all'occorrenza immagini che rimandano al mondo pop americano degli anni 50. È un libro anche altamente simbolico, motivo per cui non lo definisco affatto un libro sulla pedofilia, perché sarebbe riduttivo e fuorviante. Anzi, vi invito ad abbattere questo pregiudizio leggendolo. Pregiudizio comunque legittimo e comprensibile, perché rimane a tutti gli effetti un romanzo provocatorio. Flatlandia di Edwin A. Abbott, una distopia poco conosciuta, ma davvero intelligente. Per descrivere la società, in questo libro viene utilizzata la metafora delle forme geometriche, attraverso la quale si arrivano a delle attualissime riflessioni sulla nostra società a livello materiale e metafisico. Il fiume della coscienza di Oliver Sacks è una raccolta di dieci saggi. Lui è stato medico, chimico, docente di psichiatria e neurologia. In quest'opera Oliver Sacks tocca tutte le sue conoscenze, o comunque tutti gli argomenti a cui ha dedicato la sua vita. E ovviamente, essendo un libricino di poco più di 200 pagine, piacevolissimo, non può toccare, il grado di approfondimento non può essere elevato. E ci pensa Oliver Sacks a rimandare, a mettere rimandi alle sue precedenti opere o a opere di altri suoi colleghi, psichiatri, neurologi, medici o anche perché, no, scrittori. Ad esempio ci sono citazioni di Dostoevsky, di Wells e anche, ripeto, delle sue precedenti opere. Lui parla spesso in quest'opera, ad esempio, di Emicrania, soprattutto nella parte in cui descrive lo scotoma, che dice di aver approfondito nel saggio Emicrania, che ho nella mia libreria digitale. Quest'opera è un inno alla vita in tutte le sue forme, umana, vegetale, animale. Un invito alla ricerca e un elogio della scienza, nel senso di scientificità. L'insostenibile leggerezza dell'essere, un libro che parla di diverse forme d'amore che entrano in dialogo con il mondo, la storia, la filosofia e l'arte. Un gioiello della letteratura contemporanea, Kundera riesce a illuminare il mondo con il suo stile limpido, diretto, semplice, mai banale come le sue riflessioni. Anche quelle che sembrano più scontate, in realtà sono forse quelle più pensate e meditate. Perché è quanto è difficile parlare di ciò che è evidente, parlare con semplicità delle cose che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Infine, Le Braci di Sandor Marai, un libro che indaga il tema dell'amicizia, della lealtà tra gli uomini e della fedeltà. Dei valori che sembrano tanto ottocenteschi o giù di lì, ma che è importante riscoprire. Bene ragazzi, questi erano i miei consigli, spero di esservi stata d'aiuto. Ditemi se avete letto uno di questi libri. Come vi ho già letto all'inizio, trovate la recensione di alcuni di questi, della maggior parte, sul mio canale. Vi invito a cercarle se siete interessati, mentre degli altri, ad esempio di Oliver Sacks, arriveranno presto. Fatemi sapere voi cosa prenderete, se avete già in mente qualcosa, o quali titoli per voi sono imperdibili. Vi aspetto giù nei commenti, come sempre, per parlare ancora un po' con voi. E intanto qui vi saluto. Ciao!